Ritardi e disagi questa mattina alla stazione ferroviaria di Fano dove Matteo Landi, un 31enne nato a Senegaglia ma residente a Dostra in provincia di Ancona, ha perso la vita dopo esser stato investito da un treno Frecciabianca partito da Venezia e diretto a Lecce. Il fatto è accaduto intorno alle 10 lungo il terzo binario e non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario del ragazzo. Inutili soccorsi dei sanitari del 118, il corpo della vittima è stato coperto da un telo bianco. Sul posto per gli accertamenti la polizia ferroviaria, gli agenti del commissariato di Fano e i colleghi della scientifica. In tarda mattinata poi la procura del Tribunale di Pesaro ha autorizzato la rimozione della salma che ora si trova all'ubitorio dell'ospedale Santa Croce di Fano. È stato confermato il riconoscimento cadaverico ma non l'autopsia. Il convoglio invece è rimasto bloccato per circa due ore e i 180 viaggiatori che erano a bordo sono rimasti in attesa della possibilità di ripartire. La circolazione ferroviaria non si è fermata ma sono stati registrati ritardi fino a 50 minuti per tre frecce, due intercity e due regionali.